Agli Oscar hanno buttato merda sui videogiochi, e qualcuno si è un po' incazzato. La persona in questione è il compositore della corona sonora di Oppenheimer, e questo è il suo discorso alla vittoria dell'Oscar proprio per Oppenheimer. Prima di partire con Flame, Ludwig Goranson non è per niente un cretino, anzi, ha già vinto un altro Oscar per la migliore corona sonora, oltre ad essere la persona dietro canzoni come Quest'uscita sui videogiochi però è stata percepita un po' male dagli appassionati, che giustamente hanno ricordato che tantissimi compositori leggendari hanno lavorato e lavorano tuttora ai videogiochi, e che meritano lo stesso identico rispetto dei compositori per il cinema. Secondo me è stata creata una shitstorm dove non doveva esserci. Oddio, c'è sempre il sottotesto per cui ecco il videogioco sia un po' un cazzeggio, è qualcosa di meno dignitoso rispetto a musica o cinema, ma credo che appunto questo rimanga solo una battutina così al volo, non uno statement di qualche tipo. E tu cosa ne pensi? Fammelo sapere nei commenti.